ciao questo nuovo video che il solito che faccio sui sui film che riesco a andarmi a recuperare visto che magari come film questo qua lo hanno messo sulle marei sulle solite piattaforme adesso anche se magari come film è uscito nel 2023 che come paesi di produzione il solito marei americano degli stati uniti che come lingua originale e inglese che il solito marei drammatico che parla che a parte che marei come regia di questo bill oliver sceneggiatura ecco è sempre questo bill oliver e peter nico witz che magari anche si prende marei come come si dice come film prende mare come genere drammatico palla più che altro marei marei come trama marei e non è marei da tutti che può non è così dice come stavo dicendo ma e non è da tutti come trama però ma come come genere marei cg può come si dice che amare certa gente può anche marei piacere piacere come film che anche se marei 2 1 ora e 40 di film 1 ora e 42 di film marei di compreso marei a chi piacciono marei questi tipo marei di marei di come si dice di storia marei 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 di andare solo marei a recuperare marei come film che parla più che altro marei sempre ambientato come si dice sempre marei solito film americano però parla più che altro di questi due di questi due persone uomini che nikki nikki e gabriel che sono una è una coppia di o di omo genitori che sono come si dice che dopo 13 anni di matrimonio divorziano e si contentano magari senza marei senza marei nessuna come si dice marei con qualsiasi mezzo marei si contentano marei la custodia primaria marei di del figlio di otto anni che si chiama owen nato marei da da madre su regata che più che altro marei parla più creato marei di questo affido di questo bambino che essendo una coppia di omo genito di omo genitori marei più che altro marei la trama come si dice è concentrata più che altro marei su questo affido di di omo e nel bambino e loro figlio di di otto anni che marei a chi marei può piacere marei questo tipo marei come film che marei come al solito marei vi lascio marei sempre marei sotto in descrizione che a parte che ho visto che come data d'uscita maria del film è stata è stata verso la fine dell'anno scorso del 2023 che adesso lo si può sono riuscito a guardamolo perché lo hanno messo sulle solite magari piattaforme che se qualcuno magari a qualche magari abbonamento magari lo riesce magari a recuperarselo magari anche gratis come come film e come film e niente che magari come ho detto ma come prima marei come trama così magari non è sicuramente magari non può non può mai piacere sicuramente a a tutti a tutti essendo marei che parla di questi di questi genitori dello stesso senso però nel complesso marei come è fatto il film come già le scene come sono girate marei come film marei ci poteva marei come si dice anche sa ecco è come film marei e e magari il solito film come si dice di quando magari capita certe volte magari il solito film per passarsi magari un po' il tempo così e niente quello che potevo magari dire su questo magari su questo film ma magari l'ho già detto al massimo magari come ho detto magari vi trovate magari qualche informazione magari in più quando sotto in descrizione poi faccio magari 18 quando magari faccio questi questi magari tipo di film di video sui film che come si dice che la parte che da parte mia di attori che erano che si vedevano in questo film magari non ne conoscevo non ce n'erano magari che conoscevo magari sicuramente magari qualcuno magari l'avrà già visti magari in qualche altro film che comunque magari vi lascio il cast sotto come ho detto magari prima il cast sotto magari in descrizione e niente quello che potremmo magari dire su questo video magari l'ho già detta al massimo ci vediamo ci vediamo magari più avanti con i miei soliti video che porto magari sul sul mio sul mio canale e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao